Già in passato in associazione abbiamo parlato di queste tematiche e della condizione femminile, incontri che se interessati trovate tutti registrati sulle nostre piattaforme. Volevo citarvi solo alcuni incontri che abbiamo già fatto, uno in particolare è Tiziana Ferrario che è stata ospite da noi nel 2022 con cui abbiamo parlato della condizione delle donne afghane. L'incontro poi invece risalente al marzo del 2021 con la scrittrice Dacia Maraini e la giornalista Chiara Valentini che hanno presentato il libro Il Coraggio delle Donne e la stessa nostra ospite Farian che già nel 2018 aveva presentato in occasione dell'uscita del suo libro Non legare il cuore. Prima di iniziare stasera ovviamente tocca a me fare gli onori di casa ricordandovi i prossimi appuntamenti dei giovedì culturali. I giovedì 3 dicembre alle 18 sarà nostro ospite il professor Gianfranco Pasquino che molti di voi già conosceranno perché è stato... novembre, ok. Sarà già nostro ospite, è già stato nostro ospite in associazione ed è uno dei politologi più autorevoli del nostro paese. Inoltre sarà in dialogo con Giorgio Barberis e Stefano Quirico, docenti dell'Università del Piemonte Orientale, dove discuterà delle sue nuove pubblicazioni tra scienza e politica, un'autobiografia, e la curatela invece fascismo, quel che è stato e quel che rimane. Lunedì 7 novembre alle 18 invece torna il professor Mario De Aglio, anche egli già ospite da noi per molte volte, per presentare il mondo post-globale e la nuova pubblicazione sull'economia globale. Ora, senza togliere ovviamente altro tempo, lascio brevemente la parola alla presidente del CSWA, Rosanna Viotto, che ci illustrerà l'iniziativa da cui è nato tutto questo intervento, e poi alla dottoressa Caldirolla che presenterà i nostri cari ospiti. Buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti così numerosi. Siamo al termine di due giorni potenti, forti, ricchi di emozione, di sentimento e di riflessione. Questa manifestazione è nata l'8 ottobre, durante la festa del volontariato. Se voi avete scorso e notato la locandina e le diapositive, le immagini di tutte le persone che hanno aderito e hanno accettato di essere fotografate, erano tutte in quel periodo e in quel momento, l'8 ottobre, perché era la festa del volontariato indetto dal centro servizi volontariato, il CSWA famoso, che sappiamo tutti per acronimo. Io sono la presidente, ma sono in questa occasione la portavoce di tutte le associazioni che fanno parte del centro servizi e delle associazioni che hanno deciso di fare questa manifestazione. Le associazioni che appartengono al centro servizi, che hanno deciso di fare questo, sono l'anima portante del centro servizi, sono il cuore. Noi come centro servizi, se non ci fossero le associazioni, non avremmo ragione di esistere. Allora ci siamo trovati qualche giorno dopo, poche persone, e abbiamo detto chi fa cosa? Con molta incertezza, con molta titubanza, con molta paura, perché non sapevamo come la cittadinanza avrebbe risposto. Ebbene, abbiamo contattato le scuole, ieri mattina erano 300 ragazzi di tanti istituti della città e abbiamo dovuto dire no a tanti altri istituti che volevano essere presenti alla proiezione del cinema, del film. Poi abbiamo contattato tutti voi cittadini e ieri sera eravamo più di 100 sempre alla proiezione di questo bellissimo film in collaborazione con due esiliate. La regista Persson e Amane Desjad, un'esiliata che ha raccontato attraverso le immagini tutta la sua sofferenza, ma tutta la sua passione e la voglia di continuare a essere la voce delle donne iraniane. E noi perché abbiamo pensato di fare questa manifestazione? Perché anche noi, donne di Alessandria, uomini di Alessandria, vogliamo essere accanto, vogliamo essere la loro voce e soprattutto vogliamo che questa voce non si perda, ma continui attraverso altre manifestazioni. vogliamo essere accanto a loro, vogliamo essere accanto agli uomini e le donne di tutto il mondo che non hanno garantito i loro diritti, le loro opportunità. Vogliamo essere vicini a tutti gli uomini e tutte le donne che vogliono vivere e non vogliono morire. Ecco il senso di questi due giorni. Quindi volevo ringraziare tutte le amiche che ho conosciuto in questo periodo e abbiamo già pensato di fare altre cose. Quindi volevo ringraziare anche la CGL, volevo ringraziare Associazione Cultura e Sviluppo perché sono stati nostri partner importanti e alla fine anche il consiglio direttivo del centro servizi che ha permesso anche di riuscire a realizzare tutti insieme. Stamattina c'è stata la marcia che io chiamo di testimonianza. E' stata una marcia partecipata, partecipata da persone di tutte le età, di tutti i ceti, di tutti i credi religiosi, giovani e meno giovani. E siamo andati dal prefetto per far sì che lui sia portavoce delle nostre istanze di vicinanza al popolo ireniano. Per cui grazie perché con voi concludiamo due giorni importantissimi, stanche, ma contente e soddisfatte. Buona serata e buon proseguimento. Grazie Rosanna e grazie anche alle associazioni alessandrine del territorio che hanno voluto organizzare queste due giornate. Il video che ha girato all'inizio intanto che voi entravate in sala potete vederlo con calma alla fine del nostro incontro se volete fermarvi lo rimettiamo in modo che sia possibile magari anche riconoscersi nelle donne che hanno partecipato. Vi presento i due ospiti che sono con noi questa sera. Farian Sabahi che conoscete è Mohamed Tului e la traduttrice Azi Ogba che ringraziamo. Farian Sabahi accademica giornalista ha scritto numerosi libri sulla storia dell'Iran è particolarmente nel suo cuore la nostra città perché lei è nata qui figlia di un iraniano e di una piemontese e ha raccontato proprio questo vissuto di persona che ha attraversato culture e religioni molto diverse nel libro Non legare il cuore la mia storia persiana tra due paesi e tre religioni che come ha detto prima Francesca ha presentato qui qualche anno fa. Farian ha una doppia laurea in economia aziendale e in storia orientale e ha tenuto corsi in Atenei italiani e stranieri e ancora adesso sta insegnando in una università a Roma università straniera a Roma è autrice di numerosi articoli scientifici e saggi collabora con la RAI e con altre testate internazionali e i suoi ultimi libri sono Storia dello Yemen e Storia dell'Iran 1890-2020 e anche regista ha realizzato numerosi cortometraggi Mohamed Touloui è uno scrittore sceneggiatore e drammaturgo iraniano è venuto in Italia a presentare il suo ultimo libro Lezioni di papà Lezioni di papà e questi tutti e due i libri quello di Farian e quello di Mohamed Touloui li trovate poi all'uscita se li volete comprare se li volete far firmare è un'occasione per conoscere da vicino i due scrittori Mohamed ha scritto romanzi e racconti per cui ha ricevuto numerosi premi letterari molto prestigiosi tra cui il premio Golshiri che è il più importante riconoscimento letterario in Iran questi libri entreranno sicuramente nella nostra conversazione perché questo di Farian è la riedizione di un suo testo che è stato anche rappresentato in teatro un racconto al femminile scritto in prima persona sulle origini della capitale iraniana e sulla storia e l'immaginario dell'Iran ci sono citazioni dei versi dei grandi poeti persiani storie di donne protagoniste ed è un bellissimo ritratto della cultura persiana e del ruolo che le donne hanno avuto nel costruirla e nel difenderla è particolarmente interessante la testimonianza di Shirin Ebadi che c'è alla fine del libro premio Nobel per la pace nel 2003 avvocato che ha combattuto per i diritti delle donne il libro di Mohamed Touloui è un parzialmente autobiografico e fa il ritratto di un uomo di un iraniano che sogna l'Europa un uomo che è pieno di ideali è pieno anche di sogni difficilmente realizzabili un libro che però non credo che sia piaciuto molto a chi governa in Iran in questo momento e lui era qui a presentarlo in Italia quando si sono verificati gli avvenimenti che più o meno conosciamo avvenimenti sui quali però vogliamo chiedere una testimonianza diretta a Farian perché entrambi i libri riflettono un rapporto molto stretto con la realtà del paese e da qui vogliamo partire quello che sta succedendo in Iran è che ultimamente ha visto incrudelire la repressione e succedersi degli avvenimenti ancora più tremendi come l'attentato che c'è stato ieri alla moschea e diciamo la repressione durante i funerali di massa a Mini tutto è partito dalla storia di questa donna quindi se vuoi partire anche tu da lì o come vuoi grazie alla dottoressa Caldirola per quella quale provo molto affeito ci conosciamo da anni e grazie a tutti voi di essere qua io mi sento a casa perché sono nata e cresciuta ad Alessandria e sono molto grata ovviamente a Marco Caneva che ha organizzato l'evento e molto grata a Mohamed Touloui che ha accettato di venire in questa località di provincia lui gira il mondo è uno degli scrittori iraniani più noti era appunto al festival di internazionale a Ferrari eravamo insieme un mese e mezzo fa quando sono scoppiate le proteste a un certo punto eravamo col suo traduttore Giacomo Longhi che ha tradotto questo suo romanzo e che stasera non c'è perché è in Oman per un altro lavoro di traduzione e ci siamo guardati e abbiamo detto ah forse non è il momento giusto per tornare perché quando succede qualcosa di brutto in Iran agli intellettuali viene sottratto il passaporto nel momento in cui tornano nel paese e sono i primi a essere presi di mira le proteste lo sapete sono iniziate il giorno del funerale di Masa Amini Masa era una ragazza di 22 anni iraniana era originaria della provincia del Kurdistan iraniano dove il codice di benigliamento è un po' meno severo rispetto alla capitale Tehran era nella capitale per una vacanza con i genitori e col fratello di 17 anni prima dell'inizio dell'anno accademico è stata fermata l'uscita della metropolitana dalla gastersha della polizia morale sono delle camionette bianche con una striscia verde da cui scendono con fare intimidatorio uomini e donne sono le donne che prendono di mira le ragazze giovani ma vengono presi di mira anche i maschi perché hanno magari i capelli troppo lunghi perché hanno magari la maglietta troppo attillata la manica troppo corta e quindi è un modo per intimidire i ragazzi vengono poi portati anche signore non prendono solo di mira i più giovani dopodiché ti portano nella loro centro di rieducazione e ti spiegano come fare a comportarti c'è stata una politica una donna politica qualche settimana fa che ha detto che due ore di seminario su come vestirsi non basta per far capire a queste ragazze come devono comportarsi dovrebbero essere sposate con un membro del clero così imparerebbero a comportarsi a dovere le proteste sono iniziate perché i genitori di Massa e Minì non hanno accettato di seppellire la figlia di notte con le tenebre in modo che non venisse nessuno l'hanno seppellita in pieno giorno il padre ha raccontato in primis alla BBC in persiano quindi alla canale in persiano dell'emittente britannica BBC in Iran non si parla arabo si parla persiano con una lingua indoeuropea e da lì sono fuoriuscita dall'Iran le immagini di questa ragazza che era stata picchiata le autorità hanno mentito dicendo che ha avuto un infarto poi hanno detto che era morta perché aveva avuto un'operazione per un tumore al cervello da bambina ma i genitori hanno negato tutto le proteste sono state innescate dalla morte di Massa e dall'obbligo del velo le autorità non vogliono cedere sull'obbligo del velo perché l'obbligo del velo viene imposto nel 1979 all'indomani della rivoluzione della cacciata dello Shah da l'Ayatollah Rukhullah Khomeini che è il fondatore della patria il fondatore della Repubblica Islamica quindi dire no al velo vorrebbe dire dire no all'obbligo del velo vorrebbe dire contraddire quello che aveva deciso Khomeini è uno dei pilastri della Repubblica Islamica sarebbe un po' come dire abbattiamo il muro di Berlino per quello che era stato il comunismo quindi una valenza altamente simbolica detto questo in Iran le donne sono in realtà hanno tanti diritti negati parlo in prima persona plurale perché sono nate e cresciute con la cittadinanza iraniana perché a quel tempo sono del 67 le donne italiane non potevano dare la cittadinanza italiana ai figli abbiamo dovuto aspettare il 1983 affinché le donne italiane avessero il diritto di passare la propria cittadinanza ai figli ecco noi donne iraniane abbiamo la nostra parola in tribunale nel momento in cui veniamo interpellati in un processo la nostra parola vale la metà rispetto alla parola di un uomo se veniamo ferite oppure se moriamo in un modo violento noi o la nostra famiglia riceviamo il 50% di compensazione di risarcimento si chiama il prezzo del sangue rispetto a quando essere ucciso o ferito a un uomo l'eredità che aspetta alle figlie femmine è della metà rispetto all'eredità che aspetta a un figlio maschio ottenere il divorzio e l'accusare dei figli è molto difficile e le donne sposate hanno bisogno sempre il permesso scritto del marito per espatriare ecco alcune di queste norme giuridiche che penalizzano le donne non sono legate alla Repubblica Islamica già al tempo dello Shah una donna aveva bisogno del permesso del marito per espatriare per andare anche solo in pellegrinaggio addirittura c'è stato un periodo in cui ogni volta che la donna iraniana voleva espatriare aveva bisogno di permesso per ogni singola uscita ecco oggi è una questione bizzarra ma una donna che è vice presidente della Repubblica Islamica ha bisogno del permesso del marito per andare in missione che so a New York per una conferenza per l'Assemblea Generale delle Nazioni quindi può essere molto particolare come situazione la custodia dei figli in Iran si può avere adendole via legali e col principio di competenza i giudici possono dare i figli in affido alle madri al tempo dello Shah la donna che veniva ripudiata o divorziava perdeva il diritto a vedere i propri figli e poteva magari vederli poi quando ormai erano grandi maggiorenni sposati via di questo passo quindi non pensiamo che tutto sia frutto sia tutta colpa della Repubblica Islamica detto questo le proteste sono andate avanti ormai per 40 giorni in tutto il paese la cosa interessante è che le proteste sono iniziate da una provincia dalla provincia del Kurdistan iraniano non dalla capitale dalle città come era successo nel 2009 o nel 2019 e poi man mano si sono irradiate nel resto del paese di fatto tutte le province iraniane sono in qualche misura coinvolte ci sono state altre proteste in Iran nel 2009 quando gli iraniani chiedevano dove fosse finito il loro voto roi mo koja ast dov'è il mio voto io ho votato nelle elezioni presidenziali però ha vinto per un secondo mandato l'ultraconservatore Ahmadinejad che in realtà la maggior parte della gente di città gli studenti non voleva quindi si è pensato subito ai brogli quindi quelle erano rivendicazioni politiche soprattutto nelle città soprattutto tra i giovani intellettuali nel 2019 ci sono state altre proteste importanti perché il governo Rouhani aveva improvvisamente aumentato il prezzo del carburante e quindi i ceti popolari sono andati in strada reclamando insomma un prezzo più equo perché sono aumentati in modo assurdo e inaspettato rispetto al 2009 e al 2019 oggi le proteste coinvolgono tutti non è la rivoluzione delle donne non è la rivoluzione dei giovani perché ci sono le donne ci sono gli uomini che per la prima volta nella storia degli Iran sono in piazza a difendere i diritti delle donne anche loro ed è un movimento che coinvolge anche gli anziani perché ci sono donne di 80 anni che si tolgono il velo si fanno riprendere dai figli dai nipoti e poi mettono quei video su Instagram che diventano virali quindi è una protesta a 360 gradi noi chiamiamo i media in Italia parlano spesso dell'Iran come di una teocrazia ecco l'Iran non è una teocrazia perché non è la parola di Dio non è il Corano non è Dio governare è una oligarchia di Ayatollah e Pazran dove gli Ayatollah contano in realtà sempre meno perché non sono stati in grado di creare un cambio generazionale e quindi non sono stati in grado di creare una nuova generazione di Ayatollah o di Ojatollah o di clero o sciita in grado di prendere le redine del paese oggi e non è una buona notizia comandare sempre più in Iran sono i militari e paramilitari sono i Pazaran le guardie rivoluzionarie che hanno un ruolo molto importante in politica quindi hanno un tot di seggi proprio in Parlamento e controllano anche l'economia perché c'è una buona parte dell'economia che non è egrigia è un'economia di cui non si sa granché perché i libri contabili non vanno presentati al governo parlo delle fondazioni religiose che controllano una parte importante del prodotto interno lordo del paese ci sono le sanzioni internazionali in Iran ma in Iran ci sono tantissime Porsche ci sono gli iPhone c'è tutto perché tutto arriva di contrabbando chi ci guadagna dal contrabbando sono proprio colori i Pazaran che controllano le frontiere del paese quali scenari possiamo intravedere la repressione sta andando avanti e continuerà anche perché c'è uno zoccolo duro di consenso in Iran da parte di gente che ha da guadagnare dal sistema Repubblica Islamica perché hanno uno stipendio hanno una pensione e qualche settimana fa uno dei gesti delle autorità del Parlamento è stato varare un aumento del 10% di stipendi e pensione per i dipendenti dalla pubblica amministrazione e dai militari quindi un contentino che è stato dato d'era un modo anche per spaccare il fronte della protesta perché se io ti do un aumento magari tu hai meno voglia poi di scendere in piazza a protestare le autorità iraniane in queste settimane in queste sei settimane hanno accusato i dimostranti di essere fomentati da paesi stranieri che dietro le proteste ci sia lo zampino della Gran Bretagna dell'America dell'Israele dell'Arabia Saudita sicuramente può essere vero nel senso che se guardiamo la storia dell'Iran nel 1951 il primo ministro Mohamed Mossadegh aveva nazionalizzato il petrolio che era praticamente tutti gli entroichi petroliferi andavano a Londra a Iran non arrivava quasi niente nel 1953 Mossadegh è vittima di un colpo di stato che ufficialmente era stato fatto dagli americani in realtà fonti più recenti dimostrano che è stato fatto dagli inglesi perché volevano farla pagare a Mossadegh che aveva tolto il loro petrolio quindi diciamo che di ingerenze degli inglesi degli americani in Iran ce ne sono state parecchie però questo è un movimento di tutto di tutto autoctono nel senso che gli iraniani hanno ottimi motivi per protestare e uno dei motivi per cui protestano è che viene loro negato il diritto all'immaginazione il diritto all'immaginazione è citato dalla scrittrice iraniana che vive in America Hazarna Fissi probabilmente avrete letto il suo leggere l'ulita a Tehran ecco ma anche il diritto è venuto meno il diritto all'immaginazione ci sono i ragazzi e le ragazze le ragazze sono due terzi della popolazione universitaria in Iran tu studi sei brava passi il concorso per entrare il concorso d'ammissione per l'università ti dai da fare ti laurei e poi è difficile trovare lavoro perché la disoccupazione è due cifre l'inflazione è galoppante e anche per persone di 50 60 anni è difficile perché tutta la vita hai lavorato e poi magari la pensione non ti arriva perché il RIA la valuta locale si è svalutata troppo chiudo con una informazione relativa all'attentato di ieri ieri c'è stato alle ore 19 ora italiana un attentato a Shiraz nel mausoleo Shah a Cherag e sono morte decine di persone tante altre sono rimaste ferite l'attentato è stato rivendicato dall'ISIS che è un gruppo terroristico di matrice sunnita che nulla a che vedere con l'Iran e l'occasione è stata presa dalle autorità iraniane per dire ecco quelli erano terroristi non erano iraniani non erano sciiti come noi ma sono sunniti e questo dimostra le interferenze straniere le proteste lasciano spazio a interventi terroristici nel nostro territorio cosa succederà è molto probabile che questo evento terroristico serva a dare un ulteriore giro di vita nel paese dove internet è chiuso ormai la settimana oppure non c'è Instagram non c'è Whatsapp non funzionano però ogni tanto funziona internet al mattino al pomeriggio rallenta e la sera viene spento per impedire un coordinamento delle proteste ecco io ricordo appunto sono una storica di formazione e a me ricorda molto quello che accade nel 1980 la rivoluzione è del 1979 lo Shah scappa il 16 gennaio del 79 il primo febbraio del 79 torna in patria Khomeini dopo 14 anni d'esilio e dopo un anno e mezzo di turbolenta repubblica islamica a settembre del 1980 Saddam Hussein il dittatore iracheno invade l'Iran perché qualcuno gli aveva detto che l'Iran era indebolito dalla rivoluzione ecco quella guerra durerà fino al 1988 ci saranno più di un milione di morti in Iran ma quella guerra fu presa e fu portata avanti dall'Aidolah Khomeini che poteva fermarsi e firmare un cessato il fuoco fu portata avanti da Khomeini proprio perché era una buona occasione per reprimere ogni dissenso all'interno dell'Iran e soffocare quindi le diverse anime dell'Iran ecco il mio timore oggi è che l'attentato possa servire a un ulteriore giro di vite nel paese cedo la parola a Mohammed buonasera buonasera a tutti sono molto contento di essere qui ad Alessandria e vedere voi numerosi specialmente rivedere Farian che mi fa molto piacere come arriva di to Farian devo dire che senza sapere un po' di storia di questi giorni passati dalla rivoluzione in poi dell'Iran non si può esprimere le parole su avvenimenti di oggi le cose sono successe 40 giorni fa io sono uscito dall'Iran 30 giorni fa e gli avvenimenti sono così stanno accadendo così velocemente che nell'arco di 30 giorni mi sento proprio fuori da tutto è incredibile vedere tutte queste cose che stanno succedendo uno dopo l'altro si sente sorpreso anche Muhammad penso che se fosse successo 2000 anni fa una roba del genere potevamo dire che abbiamo davanti di noi una profeta una profeta una donna profeta che poi non è così è strano anche perché tutte le profete sono nate in Medio Oriente alla fine sembra è una situazione di mitologia sembra però se devo pensare in modo nazionale dovrei dire che in questi anni passati hanno dato la loro vita e sono molti tante donne in Iran per la libertà però non sono diventati così famosi le donne anche molto più importante di massa però non sono diventati così famosi in Iran ecco perché penso che dovrei pensare che abbiamo davanti un mito e dobbiamo pensare in modo un po' mitologico bisogna vedere la cosa così però questo non era impensabile imprevedibile anche perché tutti quasi sapevamo che la prossima rivolta rievoluzione in Iran sarà il femminile ciò che stiamo vedendo questi giorni è il risultato e frutta di emancipazione di tre generazioni di donne che ora stanno vivendo e in c'abbia di due amdadi tra persone in dast per dast c'hode a se nas l'abbiamo in montagel c'hode ha ha usato un termine che ne io ne sappiamo in sport che cosa esiste questo tipo di di corsa che le donne si si ok si chiama la stafetta ok muhammad lo vede molto come una stafetta che le donne da generazione se la stanno passando questo passo zanani che emruz tui chiyabun hastan va bistal le shone bacciahai mito non stanno bacciahai man boshan va madere man va ins nas che vaham kumak kardan va emruz ala ninja hasti e le ragasse che sono per le strade oggi in iran potevano essere i nostri figli anche perchè noi abbiamo 40 anni le nostre figli potevano avere 20 anni e pure le nostre mamme che hanno 60 70 anni parlo di emancipazione però vi devo dire come si sono emancipate le educazione accademico perchè per l'università io ho studiato all'università di Teheran in una classe di 12 studenti eravamo maschi e il resto erano femmine 10 anni dopo quando ho cominciato a insegnare nella stessa università erano tutte ragazze non avevo i maschi a lezione per motivi economici al giorno d'oggi le donne occupano più corsie all'università che uomini più di 70 per cento sono le donne che stanno studiando all'università siccome studiano così tanto poi diventano professioniste dovrebbero avere i posti migliori di lavoro e allora gli uomini non possono comportarsi con loro come vogliono sicuramente questo disuguaglianza che eccetera le donne uomini in iran li avrebbe scocciato dopo un po' e si aspettava una ribellione da parte di donne c'è anche un altro aspetto oltre a oltre a oltre a essere emancipate c'è anche un altro aspetto che è l'aspetto economico diciamo un'espetto che nel mondo digitale le donne tante donne hanno potuto fare il loro business sulle piattaforme digitali allora non hanno più bisogno né di stato né di uomini questo aspetto è molto importante che non hanno bisogno di un permesso dello stato per aprire il loro shop online o altri lavori o altri servizi che fanno via online per cui non si può mettere le donne emancipate anche economicamente sotto pressione di una società maschile e maschilista però purtroppo il governo sta andando ancora per le sue strade vecchie non ha cambiato con i cambiamenti e passi dell'Iran non ha cambiato niente invece è rimasto tale un governo maschilista religioso un po' come medioevo forse posso dire però le donne non sono più le donne del medioevo e non le puoi dare fuoco perché sono le streghe e la notizia che stiamo vedendo al giorno d'oggi è cominciato con togliere il velo dalla testa però non finirà con non non volere solo il velo grazie grazie mille a entrambi avete tratteggiato una situazione in cui appunto non è soltanto come diceva adesso una questione di libertà per le donne di diciamo utilizzare il proprio corpo e non doverlo nascondere ma ci sono mescolate tantissime cose in questa ribellione degli ultimi giorni c'è da parte dei giovani la ribellione all'uso della violenza da parte della polizia c'è il malcontento economico cose che magari approfondiamo dopo con altre domande una delle cose che mi ha colpito che ha detto Farian è che si rivendica il diritto all'immaginazione ed è questa una cosa che unisce i giovani iraniani ai giovani di tutto il mondo forse per quello che i giovani di tutto il mondo hanno sentito questa rivolta come qualcosa di veramente loro e anche questa è un'altra cosa di cui sicuramente vi vogliamo chiedere ma proprio una cosa che mi ha colpito è che il vero nome di Massa ho letto non era Massa era Gina quindi anche questa è una di quelle cose in cui praticamente lei non aveva il diritto di usare il suo nome perché magari Farian ce lo spiega un po' meglio non c'è nessun rispetto per le minoranze da parte della teocrazia chiamiamola così insomma della direzione del paese la questione delle minoranze è una questione complessa perché in Iran ci sono minoranze religiose e minoranze etniche e l'Iran a differenza che so dell'Arabia Saudita che è un alleato dell'America un alleato dell'Occidente l'Iran ha un Parlamento che ha più di cent'anni che risale alla rivoluzione costituzionale del 1906 1911 in questo Parlamento che oggi ha 290 diputati ci sono 5 rappresentanti delle minoranze religiose riconosciute ovvero 2 seggi per i cristiani che sono armeni poi c'è un seggio per gli ebrei e ci sono 2 seggi anche per gli zorastriani ci sono delle minoranze etniche perché l'Iran è un mosaico per cui le minoranze etniche sono tantissime il 24% sono che so azerbaijani per esempio poi ci sono nel Sistan Baluchisan c'è questa popolazione che al tempo stesso Baluchi che è una minoranza etnica e sono sunniti che è una minoranza religiosa e se tu sei sunnita o appartieni ai kurdi o ai baluchi puoi avere diritto a fare una carriera politica ma non a ricoprire le massime cariche dello Stato qualche anno fa parlavo con Bahman Gobadi un regista iraniano di etnia kurda che era venuto a Torino per un festival lui diceva che lui stava bene in quanto iraniano in Iran il fatto che fosse kurdo era un tratto del suo essere come può succedere in Italia che siamo una mescolanza di regioni diverse il problema è che la situazione non è sempre uguale quindi la situazione fotografata da Bahman Gobadi può peggiorare e quello che è successo con Ebrahim Raisi l'attuale presidente è che il codice di abbigliamento è stato applicato in modo molto più severo e anche nei confronti delle minoranze religiose è diventato delle minoranze non religiose nei confronti delle minoranze etniche perché si temono le rivendicazioni da parte di queste minoranze e quindi che possano scusate che possano entrare in subuglio e quindi rivendicare una qualche autonomia allora volevo ancora aggiungere due cose posso avere solo un po' d'acqua però non ho bevuto a canna se posso avere un goccio d'acqua o una bottiglietta non ancora usata grazie la questione del velo è legata anche alla questione dell'istruzione anche qua siamo ai limiti del paradosso però nel 1979 quando diventa obbligatorio il velo tanti ragazzi dei cittadini sociali più poveri grazie riescono ad andare all'università non riuscivano ad andarci al tempo dello Shah perché i genitori non si fidavano a mandarle in giro invece col velo obbligatorio la segregazione sui mezzi di trasporto e la polizia morale che gira ed evita insomma che ci siano comportamenti così un po' troppo audaci dei maschi beh quella era una garanzia e quindi oggi l'emancipazione femminile riguarda anche tre generazioni di donne che da 79 in avanti hanno avuto la possibilità di andare all'università anche se la loro tradizionalmente avrebbero dovuto fare le massaie quindi paradossalmente quel velo obbligatorio è servito a un certo ceto sociale tradizionale religioso per emanciparsi citavamo il diritto all'immaginazione di Azarna Fisi c'è un altro bellissimo romanzo che credo che le signore qua conoscano Margaret Atwood i testamenti di Margaret Atwood l'impressione proprio l'idea grazie l'ancella il fatto che ci siano dei sistemi comunque questi sono romanzi distopici ci sono queste donne che vengono messe sotto da sistemi autoritari e quando muoiono perché vengono picchiate la morte viene definita nel loro ambiente come un suicidio questo è successo con un po' di ragazzi iraniane che sono state perché oltre a massa minici sono altre ragazze che abbiamo di cui sappiamo i nomi e che sono diventate famose e di queste ragazze si è detto che non siano state picchiate ma si siano buttate si siano suicidate da un edificio anche qua l'Iran è un paese molto complesso lo capiamo leggendo la letteratura lo capiamo guardando anche i film prima vi citavo Bahman Gobadi il regista iraniano di Etnia Kurda lui ha fatto un bellissimo film che c'è anche in italiano sui gatti persiani in realtà i gatti persiani sono i ragazzi che vogliono lasciare il paese che cercano di comprare un visto sotto banco si fanno falsificare il passaporto fanno le feste e poi arrivano i bassigi che sono i paramilitari entrano nelle abitazioni fanno irruzione ed è un fuggi fuggi generale uno dei protagonisti non si suicida viene rincorso dai paramilitari salta da un tetto all'altro e cadrà quindi insomma questi sono un po' i riferimenti che secondo me sono importanti il discorso del nome c'è un nome con cui sono registrati all'anagrafe questo è il caso di Massa e poi Gina invece era il nome kurdo con cui era conosciuto diciamo che noi sui media l'abbiamo sempre usato anche gli hashtag su Instagram quegli iraniani in genere e Massa ma forse Mohammed può dire qualcosa di più sulla questione dei nomi per prima vorrei aggiungere una frase su una cosa che ha detto Faia io penso che sarebbe venuto qualsiasi regime o qualsiasi governo in Iran in questi anni passati le donne si sarebbero emancipate non è solo grazie islamica repubblica che ha dato il velo alle donne o ha obbligato i maschi non entrare all'universo ha reso magari le elezioni femminili maschili ha separato maschi e femmine così che i genitori si sentono più le famiglie più religiose si sentissero più sicure per mandare le figlie a scuola all'università come anche nel momento dello Shah noi vediamo che lo Shah ha cercato di mandare le figlie di famiglie medio anche basse iraniane in giro mi sa che tu hai fatto un film hai scritto un libro su questo esercito del sapere che esisteva questo esercito che si chiamava esercito del sapere andavano in giro nei paesini perché c'era molta analfabetizzazione in Iran cercavano di alfabetizzare la gente anche dare educazione un po' di igiene queste cose qua ma in l'inforzio di kurdi in lor nome devo parlare è molto lungo però cerco di stringere quando ho finito il primo guerra mondiale quando volevano condividere l'accordo che alla fine della prima guerra mondiale che divide l'impero ottomano doveva diventare un paese tutto indipendente kurdistan però pensavano che se li dividessero dopo i kurdi siccome si sentono una parte dell'iran poi verranno a coelisionare con l'iran scusate per me il discorso è troppo alla fine della prima guerra mondiale il kurdistan non viene creato come uno stato indipendente perché i kurdi dell'iran sono sempre stati in primis iraniani quindi erano parte integrante del paese anche perché l'iran a differenza dell'iraq a differenza della siria del libero non vengono creati dalla matita blu e rossa dei colonizzatori inglesi e francesi ma è un paese che ha 3.000 anni di storia per cui i kurdi sono sempre stati lì in quello che ancora oggi chiamiamo Iran anzi rispetto ai secoli scorsi l'iran non ha fatto altro che perdere i territori perché adesso aggiungo ancora una cosa l'Azerbaijan la Georgia l'Armenia che è il caucaso meridionale fino al 1828 fanno parte dell'iran quindi anche il kurdi san iraniano è sempre stato parte dell'iran vuol dire una nostra regione i kurdi come identità si identificano iraniani i kurdi iraniani anche io sono nata in una parte dell'iran nel nord dell'iran è nata sotto mar caspio e anche la mia lingua è molto diversa dal lingua persiana però mi sono sempre sentito persiano iraniano c'è una colla c'è sempre questo governo che c'è sempre il rischio di condivisione dell'iran di balcanizzazione dell'iran anche l'iran che i kurdi vogliono separazione i belucci vogliono separazione gli arabi vicino alla frontiera dell'irac vogliono sono tutti separisti separatisti invece questi giorni ieri notte a Tabriz i turchi iraniani stavano dando slogan contro il regime con lingua turco che dicevano il turco è sveglio il kurdo potrebbe appoggiarsi sulle spalle del turco e queste cose veramente ci ha noi iraniani non ci crediamo a questa unione perché ci hanno detto per 40 anni che ognuno vuole andare però il popolo sta dimostrando altro noi non pensavamo ho detto tutte queste cose per dirvi arrivare a questa conclusione che se un kurdo non ha potuto chiamare sua figlia che è un nome kurdo perché il governo è imbicile non ha mai capito il nostro governo non ha mai capito il popolo che voleva trattenere tutti sotto controllo però non riusciva ben saldare questo controllo secondo Mohammed un governo centrale non può governare tutti questi popoli così diversi ma così anche uguali tra di loro per cui secondo lui invece che è un governo centrale noi abbiamo bisogno di un governo federale un po' come quello che c'è negli Stati Uniti così se arriviamo al governo federale ogni entità con sua identità potrà chiamare i suoi figli con i nomi che vuole è un problema che portiamo avanti dal momento dello Shah fino a oggi e speriamo di risolverlo con questo periodo di rivolte io ho una domanda abbastanza secca in realtà e specifica Mohamed lui ha parlato prima delle università iraniane e di come nelle università c'è una grande affluenza femminile la mia domanda è quanto la letteratura persiana ha contribuito alla presa di coscienza delle donne e dei loro diritti civili Farian se vuoi iniziare tu mi verrebbe da dire quanto alla letteratura italiana perché qua in Italia la letteratura persiana è poco conosciuta ci sono due editori che sono all'avanguardia e sono Ponte 33 che ha pubblicato il romanzo di Mohamed Tolui e poi c'è Francesco Brios che è un editore di Milano che ha pubblicato una serie di libri molto belli tradotti ecco la cosa importante e questi libri sono tradotti direttamente dal persiano e non sono veicolati attraverso l'inglese e il francese però in Iran c'è la fiera del libro l'Italia è stato paese ospite e in Iran si leggono romanzi opere italiane da sempre si legge Pirandello si legge Susanna Tamaro Murgia è venuta ma si legge tutto un po' ufficialmente un po' di contrabbando nel senso che in Iran si è sempre trovato tutto sotto banco sia film sia libri mi sarebbe molto piaciuto hai fatto una domanda che per lui mi sarebbe piaciuto aver pensato alla risposta a questa tua domanda mi piacerebbe avere una risposta però non ce l'ho ora però ci penserò perché è diventato importante per me però posso dirti allora non riesci a rispondere a rispondere a questa tua domanda perché non è una donna però ti può dire che ora gli scrittori più importanti in Iran di generazione nostra e anche più importanti cantanti sono le donne come vediamo per gli oschi ora sta pubblicando un libro di tanti scrittori in Iran sono tutte donne non sa dirti se la letteratura persiana ha influenzato le donne quanto sì che ci sono più donne scrittrici che uomini scrittori registrati al ministero della cultura in Iran solo l'8% della popolazione universitaria in Iran si iscrive a materie umanistiche perché con una laurea in lettera o scienze politiche tutt'al più vai a fare l'insegnante mentre se hai una laurea in medicina o in ingegneria puoi lavorare nel settore pubblico nel settore privato in Iran all'estero quindi guadagni decisamente di più soprattutto se hai una laurea in lettere vai a fare l'insegnante e poi sei fermato in una manifestazione beh rischi di perdere il lavoro qualche anno fa al tempo di Ahmadinejad erano state del presidente ultraconservatore erano state inserite le quote azzurre nelle facoltà di medicina farmacia e odontoiatria perché le ragazze sanno che la scuola è il mezzo per l'emancipazione quindi si impegnano molto a passare i test di ammissione perché c'è da sempre un concorso pubblico per entrare già ai tempi di mio padre negli anni 50 negli anni 60 e le ragazze erano solo così brave a passare gli esami medicina farmacia odontoiatria che gli ragazzi rimanevano fuori quindi sono state inserite delle quote azzurre per dare un po' di opportunità anche a loro prendendo spunto da quello che avete detto adesso e parlando appunto del rapporto tra gli intellettuali e la popolazione ci sono stati molti personaggi famosi per essere diciamo artisti che hanno preso posizione nei confronti dei manifestanti che hanno dato la loro solidarietà ai manifestanti mi viene in mente un musicista famoso che ha fatto una ballata mettendo in musica tutti i tweet della protesta mi viene in mente Omar Faradi che ha preso posizione ufficialmente nei confronti dei come dire manifestando la sua solidarietà professori universitari che hanno detto che non faranno più lezione finché gli studenti arrestati non verranno rilasciati e la nazionale di calcio che sembra che abbia fatto una protesta mettendo i giubbotti neri ma ecco secondo voi questa presa di posizione di volti noti alla gente può influenzare il modo di pensare oppure è una cosa che lascia il tempo che trova ve lo domando perché anche in Italia ci sono stati prima delle ultime elezioni degli influencer famosi che hanno preso posizione politica dando il loro sostegno a quella che secondo loro era la causa giusta tra virgolette ma non sembra che la gente li abbia molto seguiti quindi mi domando se effettivamente questo tipo di intervento da parte delle persone che si spendono per sostenere una causa politica sia utile oppure no sì mentre mentre Azadeh traduce io vorrei ricordare che ci sono personaggi famosi che in Iran sono ancora in carcere penso a Jafar Panahi sul suo film nelle sale anche italiane quindi il governo le autorità iraniane hanno il brutto vizio anche di mettere in carcere gente molto famosa tipo appunto Jafar Panahi ma anche Faize Hashimir Rafsanjani che è una donna femminista figlia dell'ex presidente che è finita subito in carcere prego Mohamed grazie come ho detto ribadisco che volendo non volendo le donne iraniane comunque si sarebbero emancipate e questo è successo dovrei dire che questo governo questo regime ha fatto anche un'altra cosa che al giorno d'oggi capiamo che è meglio per la gente per tutti questi anni il regime ha cercato di soffocare la voce di cancellare o rovinare l'immagine di certi volti noti da celebri del popolo dai esportivi a celebriti cineasti artisti e scrittori intellettuali e ha fatto tutto per mettere una barriera tra la gente intellettuali e volti noti del paese per cui al giorno d'oggi iraniani stanno dimostrando che non li interessa tanto a chi li segue e chi si aggrega loro o no sicuramente saranno contenti se vedono che c'è gente che si aggrega a loro e alle cose che stanno gridando questi giorni però se anche qualche volto noto non si aggrega loro andranno per loro strade sì breteletto la storia di el nas recabì la campionessa di arrampicata che è andata a seul e tra l'altro sulla sua storia ho scritto un paio di pagine oggi sul settimanale grazia che trovate in edicola perché quello è un altro caso eclatante cioè lei ha gareggiato senza velo per sostenere le proteste dopodiché ha detto che le era scivolato dopodiché è arrivata a Teheran e la paura di tutti era che fosse prelevata all'aeroporto perché è arrivata anche con 48 ore di anticipo e poi finisse dritta in carcere e lei lì si è un po' arrampicata sugli specchi dicendo ah no mi hanno chiamata e ho pensato più all'attrezzatura che il velo quindi ha mentito la dissimulazione e l'attacchia che è uno dei principi cardine dell'islam sciita perché l'islam sciita che è religione di stato in Iran è una religione minoritaria nel mondo e quindi per salvare la pelle tua o della tua famiglia o della tua comunità la parola d'ordine l'obbligo proprio religioso è mentire quindi lei ha mentito anche perché non poteva chiedere asilo politico in Corea del Sud perché suo marito era rimasto a Teheran e quindi per evitare ripercussioni lei ha detto che si è sbagliata era presa talmente presa dal campionato che ha pensato più appunto all'attrezzatura perché l'hanno chiamata improvvisamente quindi lei si è giustificata in qualche modo sarà aperta un'inchiesta e tutto però intanto lei ha lanciato un messaggio e quindi quello è stato anche importante anche quello insomma però mentire a volte è necessario aggiungo che allora lei non è in pirigione no 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 infatti però hanno ipotecato la casa dei suoi genitori il governo gliel'hanno detto ora si sa tutto questo che hanno detto se parli al contrario di ciò che hai dichiarato in aeroporto l'hanno rapito dopo dopo la gara lei quando ha gareggiato quando è sceso l'hanno ufficialmente rapito l'hanno portato in ambasciata dell'Iran in Corea del Sud l'hanno tenuto trattenuto e l'hanno fatto tornare in Iran di anticipo poi quando è arrivata in aeroporto ha detto ciò che le avevano detto di dire perché lei aveva fratello e genitori in Iran la sua famiglia è ricca in Iran hanno una casa molto costosa hanno ipotecato la casa hanno detto se parli al contrario di ciò che devi dire i tuoi genitori perderanno casa perderanno tutto ecco questo però succede sempre succede anche ai tempi del presidente riformatore la gente viene arrestata gli intellettuali i cineassi vengono arrestati poi ti liberano su cauzione e la cauzione sono quei 500 mila euro forse anche più di casa dei parenti quindi sono situazioni estremamente estremamente delicate perché sei ostaggio poi di una situazione che mette in difficoltà non soltanto te ma proprio anche i tuoi familiari dal punto di vista economico insomma perché rischi che venga espropriata la casa dei tuoi genitori e dei tuoi familiari è successo anche con Ramin Jean Beglu col filosofo eccetera ecco un'altra cosa importante che spesso mi viene chiesto se il sistema politico repubblica islamica è riformabile secondo me no perché tutti coloro che in questi anni hanno provato a riformare il sistema hanno fatto una brutta fine penso appunto al filosofo Ramin Jean Beglu che appunto è finito in carcere poi per fortuna era anche cittadina canadese comunque è tornato a vivere in Canada dove aveva studiato pensiamo a un religioso membro del clero Ishkevari che aveva detto che il velo non era obbligatorio perché non c'è scritto da nessuna parte nel Corano e lui è stato in carcere tanti anni al tempo del presidente riformatore Khatami e ancora tutto il movimento verde d'opposizione del 2009 tutti i leader sono finiti in carcere agli arresti domiciliari e sono invecchiati nel senso che proprio è stato fatto passare loro la voglia di fare qualsiasi cosa io avevo seguito questi personaggi anche dal punto di vista personale quindi anche per esempio il fratello e sorella Mosem Kadivar che è un ojato all'eslam un membro del clero shita vive negli Stati Uniti con la moglie la sorella Jamile che è stata deputata era con me a un festival al festival Torino Spiritualità nel 2009 non è più potuta tornare in Iran la stavo fisicamente portando in aeroporto perché gli amici e i familiari hanno detto non tornare che ti arrestano e lei era un esponente del movimento riformista quindi tutti coloro che hanno provato a riformare il sistema da dentro perché avevano un qualche ruolo sono stati costretti all'esilio oppure hanno pagato con delle pene detentive sono importanti aggiungo un'altra cosa porto una mia testimonianza ho tante amiche influencer molto influenti che i primi tre settimane di di queste rivolte hanno lavorato molto sodo e molto bene su Twitter e su Instagram avevano tantissimi riscontri andavano fortissimo tutte quante hanno ricevuto le minacce dello Stato e hanno scritto cioè proprio via SMS sui loro cellulari in Canada in Italia in Francia in Stati Uniti e nello stesso tempo gli hanno detto zitti se no togliamo tutto alle vostre famiglie una mia amica influencer molto vicina mi ha raccontato che suo padre medico sua mamma ha una sede di assicurazione in Iran possono cioè possono essere fermati dal governo di lavorare di vivere e poi questi arrivano ti tolgono cioè sono capaci arrivare togliere tutto perché sono arrivati allo stremo questi giorni sono molto disperati come si stanno come si sta comportando regime questi giorni non aveva mai comportato così in maniera così duro proprio esplicitamente nei confronti di chi protesta e grazie ad Asadeh per il suo contributo tra l'altro Asadeh è un nome persiano vuol dire libera sono nata nell'anno di rivoluzione 79 come Muhammad ma da 5 giorni meno di mera avevamo compagni di università di Teherano e studiavamo cinema insieme i miei genitori hanno fatto rivoluzione erano rivoluzionari sognavano sognavano in un Iran meglio dell'Iran dello Shah con più apertura un Iran che anche comunisti potessero parlare perché lo Shah ce l'aveva con i comunisti un Iran che anche intellettuali abbiano loro voce per cui i miei genitori mi hanno chiamato Asadeh perché mio padre studiava in Germania mia mamma studiava in America erano figli di quella società medio medio iraniano i miei nonni erano semplici persone non avevano soldi per mandare i figli andare a studiare all'estero invece lo Shah ha mandato questi giovani iraniani a istruirsi e tornare in Iran e essere utili diventare professionisti essere utili per il loro paese i miei genitori in 80 sono tornati io sono nata in Germania poi quando mio papà ha finito i suoi studi è tornato in Iran perché loro volevano rendersi utili non avevano non immaginavano Iran dopo rivoluzione dopo un anno di rivoluzione cosa è diventato mia mamma ha studiato elettronica è diventata ingegnere elettronica all'università di Minnesota in Stati Uniti quando lei è partita da Shiraz per ingegneria elettronica era una materia fortemente maschile perché solo i maschi andavano a studiare elettronica c'erano solo tre ragazze che erano partite dall'Iran per studiare elettronica e quando mia mamma è tornata a Shiraz doveva insegnare elettronica e siccome erano tutti maschi maggior parte erano maschi a Shiraz a studiare elettronica questi mullah hanno mandato via mia mamma hanno detto no no una donna non può insegnare ai maschi vai a insegnare superiori nelle medie puoi insegnare fisica puoi insegnare matematica sei un ingegnere non ci servi e da quel momento i miei genitori io li ho visto che proprio ho avuto dei genitori spenti io vedevo gli occhi di miei genitori erano mezzo depressi sotto gli anni di guerra tra Iran e Iraq io vedevo questi giovani per cui ho detto ai miei genitori eravate in Europa e America avete lasciato Europa e America la libertà siete tornati in questo cavolo di paese io vado via e non tornerò non voglio vivere come voi vorrei farvi ancora una domanda tra chi ha provato e anzi chi prova a riformare l'Iran ci sono anche i giornalisti e ci sono tuttora fortissime pressioni sui giornalisti che vengono arrestati e minacciati ad esempio la notizia della morte di Masa è stata data da una donna la reporter Niloufar Amedi e il racconto invece del funerale è stato fatto da un'altra donna la giornalista e la Emo Amadi entrambe in questo momento se non sbaglio in carcere la mia domanda è in Iran la questione della libertà di espressione è sentita solo dalla minoranza da una minoranza di persone oppure dalla maggioranza ormai cioè da tutto il paese abbiamo un scherzo noi in Iran tra di noi diciamo c'è la libertà di espressione però non c'è la libertà dopo esserti espresso io prima di scrivere il mio primo professione in Iran è stato giornalista ora che sono qui seduto davanti a voi ho due giornali sono mensili in Iran questi due mensili per ognuno di quelli è andato varie volte in tribunale con tutto questo però posso dire che nel giornalismo abbiamo mano più libera che nella letteratura di scrivere nei libri perché per il libro prima di pubblicazione dobbiamo prendere la licenza per cui loro prima prendono visione del libro dicono dove deve essere censurato quanto deve essere censurato se anche non può essere pubblicato se è idoneo dopo puoi pubblicare il tuo libro però per giornale così che prima lo stamp poi ci vai in tribunale per cui ho preferito di fare il mio giornale invece che perché mi sentivo più libero queste due giornaliste che sono ora Nilou Farah Medi e Lae che sono in prigione non hanno fatto niente hanno soltanto scritto una notizia e hanno dato soltanto la notizia di morte di massa punto e basta per questo sono in prigione sembra che l'unico nemico di fronte al al governo al regime sono i giornalisti che danno le notizie vero dell'ira è molto spiacevole anche perché questi sono tanti i miei amici i miei colleghi li conosco di persona che Grazie a tutti, grazie a tutti. E presto si libereranno, dopo non potranno lavorare, non potranno avere un altro lavoro, non si sa come devono guadagnare, cosa ne sarà di loro famiglia, anche perché poi mettono una lente addosso a loro e chi va in prigione dopo quando si libera non può avere le mansioni. E spero tanto che con queste rivolte e manifestazioni arriviamo a cambiamenti veri, anche perché se non arriva il cambiamento vero, tanti perderanno tanto. E' successo questo anche in 2009 con l'onda verde, tanti giornalisti, dopo sono diventati solo attivisti perché hanno perso loro professione. Sì, noi abbiamo negli occhi la repressione di questi giorni, la repressione del 2019. sinceramente siamo molto preoccupati e angosciati dalla situazione, da quello che sta succedendo. E' una domanda, l'ultima domanda che facciamo noi e che per poi lasciare, se volete, qualche spazio al pubblico per fare una domanda, delle ultime domande, perché poi non possiamo stare qua purtroppo fino a tardi, la domanda è che cosa può fare l'Occidente? Perché l'Occidente ha messo delle sanzioni, ma queste sanzioni hanno sicuramente contribuito anche all'impoverimento della popolazione. Per cui ci domandiamo se questo tipo di azioni da parte nostra sono utili oppure invece contribuiscono a far sentire agli iraniani perseguitati e quindi li motivano ancora di più a stringersi intorno al governo. Voi cosa ne pensate? Scrivo per l'internazionale da 2014 fino ad oggi. Ogni volta che volevo farmi pagare ho dovuto andare fino a Roma e prendere i soldi a mano in contante perché per via di sanzioni non ci sono rapporti bancari tra l'Iran e l'Italia. Sembra più che altro che queste sanzioni hanno mirato più le persone iraniane più che altro che il governo. Se no, quelli del governo anche questi giorni stanno facendo dei loro affari o cercano di fare i loro affari con i governi occidentali e sono a tavola. Non si può mai aspettare dai governi, dai politici, niente. I politici e i governi sono gli ultimi che cambiano. Loro preferiscono fare i loro affari con il governo centrale che guarda in faccia la gente. Non è spera tanto nei cambiamenti attraverso i sanzioni. Ma ci sono certe cose importanti, secondo lui, che sia il popolo occidentale che i governi occidentali attraverso cui possono dare una mano al popolo iraniano. E la cosa più importante è l'internet libero. Non solo per poter organizzare le proteste. Anche perché come vi ho già raccontato, tante donne lavorano attraverso l'internet. L'internet libero ci serve anche per le donne che lavorano e guadagnano. Come vi ho raccontato, anche io da scrittore, per poter pubblicare il mio libro ho bisogno di licenza dello Stato. Tutto ciò che si fa in Iran aveva bisogno di questa licenza. Sì, questa licenza è l'arma potente in mano del governo per poter soffocare le persone. L'internet libero ci aiuta per poter uscire sotto questa pressione del governo. L'internet libero ci aiuta per poter uscire sotto il governo per poter uscire sotto l'internet. L'artisti, piccoli grandi, imprenditori, piccoli grandi via internet possono poter uscire il governo. Non hanno bisogno di passare attraverso il loro filtro. L'internet libero ci aiuta per poter uscire sotto l'internet. Sceglierevano i posti, turismo locale, andava molto. L'internet libero ci aiuta per poter uscire sotto l'internet. Abbiamo bisogno di un'opinione pubblica occidentale che stia accanto al popolo iraniano e dia una spinta al governo e chieda al suo governo di guardare anche il popolo e volere il popolo. Ora c'è una petizione che tanti iraniani, è cominciato da Canada e poi America, chiedono di mandare via gli ambasciatori di tutti i paesi, gli ambasciatori iraniani, di mandare via da tutti i paesi e chiudere il rapporto politico. Mohamed è al contrario, siamo al contrario, tanti noi giovani iraniani siamo al contrario a questa cosa perché se si chiude un rapporto politico poi l'Iran diventa un grande prigione. Ma abbiamo bisogno di testimonianza dei governi occidentali, abbiamo bisogno che ci siano, siano presenti, ci osservino e siano testimoni di ciò che sta accadendo. Basta che ci osservano, che ci guardano, se anche non vogliono prendere posizione, non vogliono fare niente, basta però che ci siano, è importante la loro presenza. Non ha senso espellere gli ambasciatori, il personale diplomatico iraniano in Europa, anche perché poi saremmo ripagati con la stessa moneta. In questo momento nella prigione di Evin a Tehran c'è anche una cittadina italiana, la blog romana Alessia Piperno, quindi se dovesse andarsene via Giuseppe Perrone diventerebbe ancora più complicato liberare questo ossaggio. A prendere questa misura e spellere l'ambasciatore iraniano in Ucraina è stato il governo di Kiev, perché? Perché le autorità iraniane stanno vendendo i droni a Putin che li usano la guerra in Ucraina. Per cui l'altra cosa che successe è che l'Ucraina ha espulso gli studenti iraniani nelle università ucraine. La cosa che abbiamo cercato, ma per ora non sono riuscita a recuperare i nominativi, bisognerebbe trovare una soluzione per magari ospitare qua in Italia, in qualche ateneo italiano, i ragazzi iraniani che sono stati costretti a lasciare gli studi in Europa. Quello sarebbe una cosa a fare. Perché l'Iran vende i droni a Putin? Perché in cambio vuole i jet fighters da Putin, vuole i caccia, gli aerei militari, quindi dà una piccola cosa che sono i droni che tra l'altro funzionano anche male, motivo per cui gli ucraini si sono accorti che erano made in Iran perché ne hanno tirato su qualche carcassa. Tra l'altro la tecnologia è stata presa dai droni americani e israeliani che i Pazaran hanno catturato nel Golfo Persico in questi anni. E poi l'altra cosa è che l'Iran vende i droni a Putin e spera di trovare sul mercato delle armi internazionali qualche altro buon acquirente. Quindi fa parte di una strategia. Però anche questo, gli americani hanno venduto, ma anche noi italiani vendiamo le mine che stanno uccidendo i bambini in Yemen. Non è che ci si faccia tanti problemi. Insomma, diciamo che tra i maggiori produttori al mondo di armi ci sono il Regno Unito e gli Stati Uniti. Sì, prima di farvi vedere il video che hanno prodotto le associazioni, volevamo lasciare uno spazio a voi se ci sono domande o considerazioni che volete porre ai relatori. Aggiungo soltanto una cosa, la questione di internet libero. Internet libero lo fai col satellite, quindi è una tecnologia americana. si tratta di rendere libero e gratuito internet ai cittadini iraniani facendo usare i satelliti. Perché in questo modo qua gli iraniani, le autorità iraniane non potrebbero bloccarli. Si sta parlando di questo internet Starlink che è fatto da Elon Musk in America che praticamente viene con satellite e non può subire le interferenze. Chi ce l'ha? Però prima di tutto costa. Poi bisogna vedere come farlo arrivare in Iran. Sicuramente poi passeranno, renderanno controbando, lo venderanno loro a costo chissà che cosa perché finora è sempre successo così. e poi è ancora dura, lunga la strada e dura per far arrivare questa tecnologia in Iran. Ci vogliono almeno sei mesi, un anno. Ci sono domande dal pubblico? Buonasera a tutti. Dunque la domanda fondamentale, anzitutto ho preso con molto stupore che in Iran le donne sono ricche e istruite, i maschi sono poveri e ignoranti. No, no. La mia è una battuta. Comunque volevo sapere, come è possibile uscire da questa situazione? Cioè lo zoccolo duro non sono gli Ayatollah, ma sarebbero i guardiani della rivoluzione. Finché sono loro a governare, a quanto pare, c'è poco da fare. Non penso che, sì, internet libero può essere uno strumento, ma non si va molto in grande. Dovrebbe esserci un momento in cui i soldati, i pasarani, i bassigi smettono di sparare sulla folla, un po' come era successo nel 1979. Il problema è che, come diceva Bita a Ferrara, è che ci sono, Bita è un'altra scrittrice iraniana che vive a Praga, che questi uomini iraniani che sparano contro i ragazzi, anche a distanza ravvicinata, hanno madri, mogli, sorelle, e quando loro tornano a casa dicono loro andrà in paradiso perché ha ucciso un miscredente. Quindi c'è purtroppo uno zoccolo duro di consenso in Iran nei confronti della Repubblica Islamica. Gli 80.000 di Berlino di sabato scorso nella manifestazione, tutti insieme in un unico posto in Iran non li abbiamo visti. Non li abbiamo visti perché appunto c'è questa repressione molto dura. Io temo che con l'attentato terroristico di ieri ci sia un giro di vite ulteriore. Però anche se viene represso rimane comunque lo scontento e continueranno le rivendicazioni. Bisogna lasciare il paese aperto. Le sanzioni non servono a nulla perché la gente che ha il potere in Iran non è gente che porta i figli a Disneyland o ha i soldi nelle banche italiane o svizzere. Hanno uno sguardo completamente diverso. Non dimentichiamo che il giorno in cui è morta Massa Mini, il 16 settembre, il presidente iraniano Ebrahim Raisi era a Samarkand e stava completando l'adesione dell'Iran alla Shanghai Cooperation Organization che è quella mega organizzazione che include metà della popolazione del pianeta e un buon quarto del PIL mondiale. Della Shanghai Cooperation Organization fanno parte la Russia, la Cina, l'India, il Pakistan e quattro delle repubbliche centroasiatiche. Quindi l'Iran oggi guarda a oriente anche per il business. Di fronte alle sanzioni all'Iran noi non compriamo più il petrolio, il gas iraniano e ci diamo la zappa sui piedi e loro comunque lo vendono ad altri acquirenti perché comunque la richiesta c'è ancora. Il paese purtroppo si chiude sempre più perché finché non ci sono state le sanzioni quelle volute da Trump nel 2018, in Iran c'erano imprenditrici, imprenditori, gente che andava e veniva. è l'andare e venire, comunque serve a lasciare un paese aperto. Non riesce ad aprire le lettere di credito? Nemmeno. Allora, con le sanzioni, sono sanzioni finanziarie che sono sanzioni anche secondarie, si chiama regime sanzionatorio voluto dal Ministero del Tesoro americano, impedisce di fare i pagamenti, quindi di accedere al sistema SWIFT. Quindi, come diceva Mohammed Ului un attimo fa, lui lavora, scrive dal 2014 per quel bellissimo settimanale che si chiama Internazionale, che raccoglie ogni settimana e c'è il venerdì la stampa, il migliore articolo di tutta la stampa internazionale. Il problema è che quando lui è in Iran, lui abita in Iran, non è tornato adesso, è ospite di un amico comune a Saronno. E lui ogni volta che scrive l'articolo non viene pagato. Cioè, io scrivo per il manifesto, scrivo per Grazia, scrivo per oggi. A fine mese a me arriva una prefattura, una nota, e mi dice puoi fatturare tot, io magari aspetto tre mesi di avere un po' di pezzi per fatturare. Però non devo andare fisicamente al giornale a prendermi soldi in contanti. Lui da Teran deve venire a Roma a prendersi soldi. Quindi, in realtà, sì, per quello vi dico, per cui vi dico, è complicato, è complicato, ma gli imprenditori italiani non riescono più a fare business con l'Iran, tranne i grandi, grandi ovviamente hanno magari la filiale in Cina e riescono a triangolare. Perché le sanzioni secondarie americane vanno a colpire anche le imprese europee. E l'Europa non è riuscita a tenere testa, ovviamente, agli Stati Uniti di Trump. C'è la moglie che ha il passaporto canadese, dice delle volte faccio anche ereditare a lei, però delle volte non accettano, dicono no, non mettiamo a nome di un altro. Vi illustro un altro problema, anche perché l'ambasciata italiana di Teheran ci fa un gran favore. Ha una modalità che prende all'anno tra duemila e tremila studenti iraniani già laureati in Iran e manda in Italia per fare varie specializzazioni in varie università italiane, dalla medicina a letteratura, al cinema. Anch'io sono arrivata in Italia con questa modalità. C'è scuola italiana di Teheran, vai lì e studi la lingua italiana, poi una volta superato l'esame di lingua italiana, poi chiede l'ammissione da qualsiasi. Siamo a Bologna, a Milano, al Politecnico, siamo in tutte le... da Catania, Messina, a Torino, siamo sparsi a Tiresi, ma dovunque ci sono studenti iraniani. All'anno 2000, tra duemila e tremila studenti iraniani arrivano qua, non possono aprire un conto corrente in nessun banca in Italia e devono tenere tutti i contanti con loro e il peso di contanti e poi che da straniera arrivi qua, oh, occhio che in Italia ci sono tanti ladri, ti rubano i soldi e questi studenti non dormono perché hanno 8.000, 10.000 euro in contante con loro e poi quando hanno bisogno di soldi, che la loro famiglia dovrebbe mandare soldi dall'Iran per loro, devono cercare un viaggiatore che viaggia dall'Iran in Italia che gli portasse i soldi. Ma almeno i governi ci pensassero un attimo, scusa mi hai dato ammissione, mi hai preso, sei stato gentilissimo, hai aperto un'opportunità, hai aperto la porta di libertà di tuo paese, di occidente, verso di me, aprimi il conto corrente. No, no, siccome il circuito di banche è americano, Visa, Mastercard, tutto quanto è americano, no, siccome Trump ha deciso, gli imprenditori italiani non possono fare affari con gli imprenditori iraniani e studenti iraniani pure non possono avere un conto qui in Italia. Ecco, anche comprare gli euro non è facile in Iran, quindi la cosa che succede è che sei in Iran e ti dicono, puoi portare i soldi a mia figlia, a mio figlio, va bene, però ti consegnano una valuta che qua non è convertibile e quindi è un problema vero. Grazie. C'è, non c'è, no, c'è. Volevo chiedere questo troppo loguro di parlarti a favore del regime che peso ha una maggioranza, una maggioranza, poi una maggioranza. C'è una condizione armata e mi sembra che con i guardiani della rivoluzione non si riesca a ragionare tanto, insomma. Ci rispondo. Intanto ne approfitto per ricordare che fuori ci sono... Questo che ci ha chiesto è la domanda che questi giorni tutti gli iraniani ce lo stiamo facendo. Se fosse è stato così facile la risposta a questa domanda eravamo alla fine. Avevamo già concluso. Quando c'è stata la prima guerra in Golfo Persico l'America pensava che almeno 5 mila iraniani 5 milioni di iraniani avrebbero combattuto contro Stati Uniti. Per cui loro hanno attaccato Iraq e Afghanistan però non hanno avuto coraggio di attaccare l'Iran. Il nostro problema al giorno d'oggi è questo i fedeli al regime che hanno armi sono armati. E questi giorni lui ha scoperto che tante di queste persone che lui conosceva con cui andava a sciare con cui andava in bici con cui si vedeva attifano per regime e combattono per regime. le milizie, le milizie, sì. Sì, praticamente una parte importante si dice che siano 10 milioni i bassigi. I bassigi sono le milizie e iscriversi nelle milizie dà la possibilità di avere un sacco di facilitazioni e le milizie e le milizie sono quelle che gestiscono i quartieri per cui sanno tutto di tutti. Perché le proteste sono la notte, la sera? Perché ci sono telecamere dappertutto e quindi poi le foto delle persone che protestano sono buttate sui giornali e sono facilmente e il problema è che loro non sono neanche ufficiali perché 10 milioni sono cifre e non li riconosci nella strada. Scusa, sto traducendo al posto di Asad e poi ci sono ovviamente tutti i pazzarani che sono invece quelli regolari. Una classe sociale che si è formata tra il 1980 e il 1988 durante la guerra in Iraq e di cui poi espressione politica è stato il presidente Ahmadinejad che è stato in carica tra il 2005 e il 2013. Dice, ci parliamo e diciamo ma che questa ti fa per regime ma rimaniamo confusi anche noi è incredibile. Una volta dal loro stile di vita si poteva conoscere loro, no? Per ora vanno a sciare, vanno a fare tennis, si mettono anche le maglie rosse per una volta, no? Ora non si può più conoscerli. Ed è quel ceto sociale che si è arricchito grazie al contrabbando e grazie alla corruzione che è molto diffusa nel paese. Lei chiedeva dell'opposizione armata. Dentro all'Iran c'è nel Kurdistan, c'è nel Sistan Baluchistan dove ci sono state delle proteste. Il Kurdistan è nell'ovest dell'Iran e il Sistan Baluchistan è a sud-est, in basso a destra guardando la cartina. Però l'opposizione armata più nota è quella dei Mujaheddin del popolo che sono però invisi agli iraniani in Iran perché sono coloro che nel 1980 quando Saddam invase l'Iran presero le parti di Saddam e fecero gli attentati terroristici in Iran. Motivo per cui l'Iran non li ama nessuno e sicuramente non rappresentano un'alternativa politica. Azaleh e Mohamed parlavano prima dell'invasione dell'Iraq da parte degli americani nel 2003 e dell'Afghanistan. Beh, se l'Iran non è stato invaso secondo autorevoli studiosi questa è un'opinione che io condivido perché l'Iran ha un cinema e una letteratura che i racchi e gli afghani non hanno. Quindi l'Iran rappresenta un mondo non troppo distante per chi ama la cultura perché tutti voi avrete visto un film iraniano e tutti voi avete la possibilità in una qualsiasi libreria di comprare un bello romanzo scritto in originale persiano. Quindi tra l'altro gli iraniani sono un popolo indoeuropeo non è un popolo arabo quindi anche questo anche proprio le connotazioni fisiche fanno sì che non siamo percepiti come troppo lontani da voi. Calgo questo spunto per ricordarvi i libri dei nostri due autori che sono all'uscita e per purtroppo chiudere la serata perché abbiamo dei limiti di tempo. È stato veramente interessante e vi ringrazio molto per essere rimasti qui così in tanti fino alla fine. e vi ringrazio moltissimo da parte mia e anche da parte mia assolutamente perché è stato un incontro molto formativo e ringrazio gli ospiti. Ecco, avere ad Alessandria un autore che parla persiano che scrive in persiano e che per un motivo o per l'altro è rimasto bloccato in Italia non capita tutti i giorni. Non so se c'è qualche insegnante tra di voi il romanzo di Mohamed Touloui è un romanzo di 85 pagine molto godibile anche per i nostri studenti del liceo non so se Mohamed avrà voglia di venire in qualche scuola ad Alessandria però glielo possiamo proporre l'idea è di far leggere magari il romanzo agli studenti di qualche liceo ad Alessandria lui appunto fa base in questo momento a Saronno che non è troppo lontano e quindi magari potrebbe essere l'occasione di farlo intervenire. Grazie Mohamed Grazie Rosario Grazie Grazie a tutti